Sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti, sappiamo vincere, noi siamo la gente della Juve. Che devo dire? Vabbè ho cambiato qualcosa o no? Perché tanti dicono che colpa... Ma non lo so, non lo conosco. Ma che Torrone era in fuorigioco effettivamente. Oh, finalmente, una volta per tu. Chiudiamo. Che devo dire? E va! Da sei anni che si lamentano contro la Juve. Secondo me devono usare altri metodi, no? Lamentandosi sempre con la Juve. Pronto? Cinto? Uè, Paolo, ciao. Come stai? È terminato. Ha fatto 12 partite. Quattro, quattro, quattro. Una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per due. Quella giusta, quella giusta. E poi su cose inesistenti tu vuoi creare un caso, vuoi far fare la pagnolada a Tizia, a Caio, vuol dire che se ho messo fuori strada completamente e non riesco ad apprezzarti, non riesco a stimarti. Ecco questo. Mojera è il numero 1, quindi cercava di portarvi al numero 1 a Juve per portarlo all'Inter. Su cose inesistenti devi stare zitto, devi tornare a casa e devi dire che devo migliorare. Questa è la verità. Sulla capacità dell'Inter a non saper perdere, nonostante dovrebbero avere l'abitudine adesso, è abbastanza soddisfacente. Mi spiace deludervi, ma questo gruppo dirigente, formato dal sottoscritto, da Marotta, dal vicepresidente Network, dal direttore sportivo Fabio Paratici, ha intenzione di continuare a far crescere la Juventus ancora per parecchio tempo. Io vi ringrazio.